Un ferito, due auto semidistrutte e traffico in tilt stamattina in via nazionale a Belvedere di Tezze sul Brenta. È l'esito dell'incidente stradale avvenuto attorno alle 10. Una mancata precedenza all'origine del sinistro che ha visto coinvolte due utilitarie e un camion. Il conducente di una Fiat Punto, un 33enne originario del Togo, residente a Tezze, uscendo da via Bel Sole per immettersi nella statale, non si è accorto di altri mezzi che sopraggiungevano. È entrato in collisione con un tir diretto verso Bassano e una Ford che giungeva dall'opposto senso di marcia. Inevitabile l'impatto. Ad avere la peggio l'uomo al volante della Punto, finita sul marciapiedi, estratto dalle lamiere, dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Ha riportato la frattura di un femore, illesi gli altri conducenti e passeggeri sul posto per i rilievi della stradale di Bassano. Per diverso tempo il flusso veicolare lungo la trafficatissima via nazionale è stato rallentato con disagio gli automobilisti in transito.